Castore, IGT Bellone, il nome del vino in onore dell'antico tempio di Castore Polluce che arricchisce il patrimonio storico ed archeologico del nostro paese. L'uva è bellone, ha un'uva gialla, colore intenso, ha una buccia sottile e delicata, chiamata anche uva pane proprio per la sua morbidezza. Viene raccolta normalmente nei primi settembre, si caratterizza per avere un grado alcolico abbastanza sostenuto e un'acidità abbastanza elevata. Per queste ragioni è adatto anche alla spumatizzazione. Ne esce fuori un vino fragrante, profumato, delicato, ha un colore giallo, paierino, intenso, consistente e se lo portiamo in bocca sentiamo biancospino, pesca, frutta matura, gelsomino. Abbiniamolo a tutto pasto, va sicuramente bene, abbiniamolo anche con gli aperitivi con dei primi piatti della cucina mediterranea ma se abbiamo in casa la fortuna di avere una frittata con la mentuccia selvatica è veramente il massimo dell'abbinamento.